Ehi, buongiorno, è ora di svegliarsi, hai dormito per tanto tanto tanto, hai fatto sogni belli, capisco si, quando facciamo dei sogni strani ci svegliamo un po' confusi, disorientati, si ma non c'è fretta fuori è una giornata magnifica, il sole sta splendendo si, sembra tutto più leggero in questo momento quando ci si sveglia e la giornata non è ancora iniziata la frenesia e il caos della quotidianità non hanno ancora preso piede, è un momento delicato si, quindi con calma adesso ti aiuterò a svegliarti, ok? intanto ti alzo un po' il cuscino così il tuo corpo si prepara ti alzo un po' qua dietro così alzati un poco la schiena, esatto allora che ne dici se apro un po' la finestra, le tende? così così entra un po' di sole un po' di aria fresca così ok allora apriamo un po' ok così va bene bene senti già l'aria che ti accarezza la pelle il sole ti risveglia i sensi e poi senti il calore del sole che ti scalda fuori e dentro si così così energico inspira questa energia e lascia che ti risvegli assorbila così si si è proprio una bella giornata fuori tutto tutto dorato con questo sole mattutino sono sicura che avrai una bella giornata allora pensavo di prepararti un po' di acqua calda con limone che è un'ottima abitudine da avere al mattino ti va? ok ce l'ho già qua ok 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 l'acqua calda con limone apre lo stomaco rinfresca rinfresca e l'acido citrico previene anche calcoli renali e biliari si tanti benefici ecco qua ecco qua sorseggia pure assaggia meno male allora te l'appoggio qua così a sorseggi pian piano ok ok come ti senti sei in una posizione comoda meno male no no non c'è assolutamente fretta voglio che ti prendi questo tempo per fare le cose lentamente lentamente siamo sempre di fretta durante il giorno non ci fermiamo mai quindi quindi davvero non avere fretta goditi la brezza il sole e pian piano ti risveglierai del tutto ho pensato di farti un piccolo trattamento al viso per rimuovere un po' quello strato un po' oleoso che si forma durante la notte così ti risveglio anche la pelle facciamo respirare i pori che ne dici poi se vuoi puoi farti una doccia nella porta ok allora questo gel detergente tutto naturale te lo applico con un dischetto di cotone e poi passerò un panno si 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 e no non è unto assolutamente su questo dischetto morbido si un bel suorlo si un bel suorlo si 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 ok allora te lo passo sul viso partendo dalla tua fronte così lentamente rimuovendo l'eccesso di sebo l'eccesso le cellule morte sai dovremmo tutti quanti prenderci più cura della nostra pelle in fondo è l'organo più esteso che abbiamo no? si adesso la tebbia sinistra la guancia che bella guancia così morbida un'altra cosa che a me piace fare al mattino è fare un po' di stretching anche nel letto oppure concentrarmi sul mento e concentrarmi sul respiro sul respiro profondo esatto così l'altra guancia e poi cerco di non pensare a quello che devo fare già durante il giorno mi prendo questo momento per stare un po' con me stessa rilassarmi 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 godermi la quiete mattutina si ok soltemi e poi il tuo bel nasino così così adesso con questo panno umido rimuovo l'eccesso di prodotto così non ti lascio appiccicoso il viso ok delicatamente torno a tutto il viso il naso ok ancora un po' sul mento è così perfetto adesso ti applico un siero alla vitamina C e acido ialuronico si si per mantenere la pelle giovane rallentare l'invecchiamento e vedrai che ti sentirai tutta la pelle morbida non è unta questa questo siero non è unta questa questo siero lo metto sulle dita così lo scaldo e poi te lo spalmo la partendo dalla fronte così un'altra cosa che piace fare è ripetere diciamo delle frasi che sono affermazioni positive e possono davvero fare la differenza nel modificare l'atteggiamento da negativo a positivo poi sono cose vere ad esempio mi ripeto che io sono una persona amata adesso lo dico a te tu sei una persona amata ma soprattutto tu sei amore tu sei gioia felicità tu sei felicità tu sei serenità tu sei essere felici positivi è una scelta tendiamo spesso a riporre questi sentimenti soprattutto la felicità in fattori esterni a noi sì è sbagliato perché sei tu a decidere se essere felice o meno ok ancora un po' sul naso qui adesso questa crema antirossore che ha anche una protezione contro raggi solari così così se vuoi prendere un po' di sole oggi hai la pelle protetta che di sbaglio qua dalla fronte blocco tutto il viso, le tempie, le guacce comunque ovviamente non si può essere sempre positivi sarebbe surreale ma anche quando il dolore e la sofferenza si manifestano o quando magari ci rimani male per qualcosa che qualcuno ti ha detto qualcosa che è successo questi pensieri guardali come se stessi guardando dall'esterno perché questi sentimenti negativi non ti rappresentano non sono solidi, concreti sono solo eventi mentali ok ok ancora un poco attorno ok quindi anche se oggi dovesse succedere qualcosa di inaspettato non farti sopraffare ok accettalo e dentro di te dentro di te sai che passerà come ogni cosa quindi non entrare in un circolo vizioso di negatività perché è inutile non porta niente non porta niente no ma io ti dico queste cose perché in realtà le dico anche a me stessa ogni giorno si può migliorare no? quindi possiamo supportarci a vicenda questo questo che ne dici se ti pettino un po' i capelli così poi non devi farlo tu ok allora ho questa spazzola piccolina va no 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 Allora inizio dal lato destro Allora va bene così? Ok Poi so che tu come tanti di noi tendi a usare molta energia pensando a cose come la carriera, il futuro Oppure tanti pensano a mettere su casa, a crescere dei figli, a cudire le persone anziane, problemi finanziari eccetera eccetera E sono tutte preoccupazioni lecite, importanti certamente però spesso quando ci troviamo a pensarci così tanto alla fine ci sentiamo esausti, prosciugati e quindi è importante fare anche delle attività che nutrono l'anima che ci fanno sentire un po' liberi Ok Adesso qua sopra, aspetta che mi avvicino Allora Poi spesso troppo spesso tendiamo alla comparazione al paragone al giudizio questi sono necessari una certa dose una certa dose ma nella nostra società sono diventati ormai delle ossessioni delle abitudini troppo troppo radicate non è necessario paragonarsi in eterno agli altri così come non c'è bisogno di mettere a confronto la propria vita o il proprio livello di vita con un'ipotetica vita futura a un'immagine del passato magari idealizzata se accendi la vita così com'è sarai via via sempre più appagato più libero dal dolore e dalle preoccupazioni quindi aspetta che ciò che bello qua ok ok ti piace? è normale comunque questa accettazione consapevole non è rassegnazione perché faccio il lato sinistro adesso semplicemente permette di vivere la vita in modo più calmo in modo non giudicante verso la percezione diretta e questo ci dà un grandissimo senso di prospettiva ci fa capire cosa è importante e cosa non lo è e pian piano questo porta ad avere più compassione verso se stessi verso gli altri sì vale la pena provarci sicuramente senti i rumori già fuori tutti si stanno muovendo già da ore vanno di qua vanno di là ogni tanto è bene fermarsi osservare le piccole cose io so che il futuro ti riserva tanta felicità tanto amore tanta gioia fidati un'altra abitudine buona è esprimere gratitudine verso ciò che hai e ricordati che tu sei abbastanza tu hai abbastanza ti è piaciuto? meno male allora mettiamo qua come va? meno male è questo l'atteggiamento giusto per affrontare la giornata voglio che tu provi ad ascoltare ciò che ho detto tutto perché può portarti davvero più serenità e mi raccomando non perderti in pensieri che riguardano cose che sono fuori dal tuo controllo concentrati solo su ciò che puoi controllare concretamente ok 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 adesso ti lascio andare a preparare vestirti fare colazione mi raccomando e poi ci vediamo dopo e mi racconti com'è andata la giornata ok? ecco qualsiasi cosa succeda mi raccomando non buttarti giù perché perché alla fine nulla è permanente quindi anche se succede una cosa inaspettata negativa poi ci sarà qualcosa di positivo questo te lo posso assicurare fidati quindi comunque sento che sarà una giornata magnifica ok? ecco ecco allora con questo bel vaccino ti lascio andare e poi mi racconterai ok? allora buona giornata ciao